Ciac si gira e così il centro di Mogliano si trasforma per qualche settimana nel set cinematografico del film Le mie ragazze di carta del regista Luca Lucini, un film che significa molto per la città visibilità nazionale e rilancio nel settore commerciale del centro ma anche qualche disagio per la viabilità. Mogliano avrà visibilità a livello nazionale e darà modo anche a un'istituzione, qual è il Cinema Teatro Busan, di essere conosciuto un po' in tutta Italia. Gran parte delle riprese infatti avranno luogo all'interno dello storico cinema Busan ma anche nelle vie adiacenti come Piazza San Pio X e Via Don Bosco che come riporta l'ordinanza verranno interrotte a tratti con degli stop and go per lasciare campo libero agli attori e limitare il disagio ai cittadini. Stiamo cercando di limitare facendo degli stop and go di fatto, cioè non bloccando totalmente la viabilità ma bloccandola nel momento in cui vengono fatte le riprese. E dopo il periodo nero del settore commerciale a causa della pandemia, un film che diventa boccata ad ossigeno e occasione di rilancio per i negozi e le attività commerciali del centro. Il tutto è stato concordato anche con le attività produttive e con i commercianti perché ricordiamo è un momento importante anche per loro. Si pensa che arriverà un po' di gente quindi per noi commercianti va più che bene visto che arriviamo da due anni di chiusure alternate con questo problema del Covid. Vedo già adesso tutti i camion che sono parcheggiati qui davanti al cinema quindi c'è gente che viene a fare colazione, che bella il caffè, porta gente in piazza, si vede movimento. Grazie. 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 Grazie.